bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi tantissime novità anche oggi per quello che riguarda il futuro di fortnite ogni giorno arrivano sempre nuove cose decriptate che non vedo l'ora di farvi vedere parleremo di nuove skin parleremo di due grandi nuove skin appena decriptate ma vi farò ascoltare anche dei file audio davvero interessanti parleremo anche di tornei e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente nel primo argomento di oggi ed è un argomento molto interessante un torneo che sembrerebbe essere segreto barra privato questa è un'immagine che è presente nei file di gioco questo torneo dovrebbe svolgersi il 26 giugno come vedete la skin molto molto carina futuristica che hanno utilizzato come icona e abbiamo delle informazioni particolari la prima è proprio la descrizione questo è un torneo privato non sappiamo appunto come poterci accedere è un solo tournament quindi si giocherà appunto in singolo e la cosa che ha un pochettino diciamo catturato l'attenzione di tutti i leakers o di tutti quelli che fanno le news è che la leggete title line 1 quindi la quinta riga family non si capisce non si è mai vista una cosa del genere quindi cosa vuol dire torneo familiare non lo sappiamo staremo a vedere se ci sono delle informazioni se ci si potrà accedere in qualche modo ovviamente ve lo dirò e lo saprete subito anche voi ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle novità per quello che riguarda il funghetto allora per tutti quelli che non avessero visto i miei precedenti video partiamo addirittura da un mese e mezzo fa è stato trovato allora a foresta frignante un funghetto animato che faceva dei versi si muoveva e tutto pochi giorni fa quindi subito dopo l'arrivo della season 3 è stato trovato questo però nei file di gioco quindi non pubblicamente che il funghetto in realtà ti segue per la mappa e reagisce alle tue mosse quindi se gli balli davanti lui ti balla davanti e tutto alcuni dicono che il funghetto seguendo ti tiri da salute e scudo ma questa cosa non è ancora stata confermata è stato invece confermato che il funghetto è tornato anche in questa season e dovrebbe essere vicino alla torre di legno quella appunto di foresta frignante lì sott'acqua da qualche parte ma la cosa interessante è questa è stata ragazzi decriptata nelle prime ore di ieri pomeriggio la skin del mushroom ne abbiamo già parlato un paio di video fa e avrà due varianti questa è la default quindi quella normale ma ci sarà anche la versione glow quindi brillante che devo dire è veramente una spanna superiore per quanto riguarda la bellezza questa skin non sappiamo ancora di che rarità è però vi ricordo due informazioni che avevo già fatto vedere si chiamerà creation shroom questo è il nome in inglese non sappiamo ovviamente in italiano e dicono come descrizione che è il maestro dei funghi entra nel combattimento avrà anche un backpack che si chiamerà si chiamerà bello bag ed è la descrizione dice è fatto per il re dei funghi e avrà anche un piccone che ancora non sappiamo quale sia che si chiama madcap quindi cappellaio matto tanta roba tra l'altro ci dicono una cosa interessante vi ricordate questa immagine forse non tutti se la ricordano ve ne ho parlato quando abbiamo fatto la prima scoperta di aquaman quindi forse il video del giorno dopo la season si pensava che questa skin fosse la la sagoma di black manta quindi l'antagonista di aquaman in realtà è semplicemente il maestro quindi non si sa bene in quale posa sia messo però non c'entra nulla con manta questo lo dico per tutti quelli che seguono sempre i video news e andiamo avanti invece a parlare di un altro argomento perché questo video registrato prima del giorno in cui lo state vedendo quindi l'ho registrato domenica dovrebbe essere invece uscita oggi nello shop la skin di loser fruit quindi dopo il terzo rinvio dovrebbe dovrebbe esserci vi ricordo che fa parte del set delle icon series 1500 v bucks la skin arriverà con un emote dedicata quindi dove c'è lei che da da dall'acqua praticamente alla fragolina che gli salta intorno e ci sarà anche il doppio piccone che però penso sia scioppabile anzi sono sicuro sia scioppabile a parte dopo piccone molto bello con la frutta e tra l'altro proprio nella giornata di ieri loser fruit ha ricevuto in anteprima la sua skin quindi io penso di averci preso dovremmo essere appunto tutti abilitati a poterla scioppare nel negozio e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio portare avanti tutto quello che scopriamo riguardo il firefly jar e la fire gun allora innanzitutto vi faccio ascoltare degli audio perché oramai sapete tutto questo è una roba che sta per arrivare che darà una svolta praticamente a tutto il gameplay di fortnite perché servirà per danneggiare con danni nel tempo le strutture avversarie e molto probabilmente anche i giocatori oggi anzi ieri per voi è arrivato il primo pack di file audio ve lo faccio ascoltare grazie a tutti come sappiamo ci sarà un'animazione dedicata al personaggio per questo nuovo oggetto quindi dovremmo proprio catturare delle lucciole per poi bloccarle appunto nel barattolo ed utilizzarlo quasi come una molotov staremo a vedere non appena sarà disponibile in credo ci vorrà ancora un po di pazienza ma abbiamo ancora dei file audio perché ieri vi avevo lasciato con questa immagine la lascio guardare a voi mentre vi faccio ascoltare tutti i suoni si parla ovviamente della flare gun quindi la pistola di segnalazione che in realtà non è che segnala molto però fa parecchio danno diciamo 1,5 secondi il reload sappiamo che ne spara 2 alla volta sappiamo che fa 60 di danno al giocatore e sappiamo che ha 6 colpi nel caricatore questi sono i file audio della pistola 1,5 secondi il come vedete si sente chiaramente che proprio spara delle cose che non sono proprio dei colpi ma sono più dei razzetti delle cose che comunque hanno proprietà incendiarie abbiamo sentito anche all'inizio come venivano caricati super fast e tra l'altro una notizia è che i colpi dovrebbero essere molto molto veloci quindi si spera anche che siano anche molto molto precisi ma appena sarà in game anche qua vi dirò tutte le informazioni e andiamo avanti con il prossimo e l'ultimo argomento di oggi perché questa è un'altra skin che è stata decriptata sempre nel pomeriggio di ieri ed è davvero molto interessante una skin davvero bella dai guardiamola un attimino qua purtroppo le immagini non sono ancora in alta definizione sappiamo anche che dovrebbe far parte di un set che ha anche la variante femminile quindi una specie di tizio con la maschera da teschio con le corna vestito quasi protetto da ok con gli spuntoni e nel backpack quella che sembra essere una banana tra l'altro il backpack invece diverso lo vediamo in questa skin purtroppo abbiamo solamente questa immagine dove dovrebbe essere proprio la variante femminile come vedete è ripresa la maschera nel logo sulla borsa insomma ragazzi tutte le notizie io ve le ho dette anche oggi vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare il like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao